Un nuovo asilo per i bambini della città dei Templi. Il comune di Capaccio Pestum ha ottenuto il finanziamento per un importo di 950.000 euro per la realizzazione di un nuovo micronido comunale. L'opera, che sarà edificata a Capaccio Scalo, è stata ammessa a finanziamento di 950.000 euro nell'ambito del POR Campania FESR 2014-2020, ottenendo il primo posto in graduatoria. L'asilo, che potrà accogliere fino a 50 bambini, prevede degli spazi interni ed esterni per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative, spazi per il riposo dei bambini e anche una cucina interna per la preparazione di pasti. L'allestimento dei giardini e del piazzale prevede un'area di gioco con tanti giochi. Sono felicissima per l'ottenimento di questo importante finanziamento, commenta l'assessore Annalisa Galla, al quale mi sono dedicata con serietà e responsabilità nei confronti dei miei cittadini. Mi auguro sia l'inizio di una serie di traguardi da poter raggiungere per dare un futuro migliore alla nostra amata terra.